Nella settima giornata del campionato di eccellenza, la battipagliese pareggia in casa con la capolista Sant'Ommaso per una rete ad una. Al gol di Sabatino ha risposto Munard su calcio di rigore, un punto in classifica che mantiene le zebrette in piena lotta play-off, ma che soprattutto continua la striscia di risultati utili consecutivi, arrivata a 5 dopo il pari con gli Irpini.